Sono Davide Mantovanelli, segretario della Lega delle Cooperative di Verona. Ho deciso di sostenere MAG perché credo che a Verona manchino momenti di socialità e di socializzazione. MAG storicamente è un incubatore di iniziative e di imprese sociali e quindi ho creduto di essere coerente con il mio ruolo e con le mie sensibilità sostenendo questo sforzo. Devo dire che anche i risultati che sono stati conseguiti sono un elemento di gratificazione rispetto allo sforzo collettivo che è stato compiuto e ritengo che questa nuova casa possa avere porte sufficientemente aperte e abbastanza luminosità per garantire il futuro di nuove imprese sociali.